Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video, canale HopClan ovviamente, e cambiamo un pochino argomento rispetto agli ultimi video, oggi parliamo di export, quindi cominciamo a fare qualcosina un pochino più verticalizzata sul B2B. Abbiamo parlato di analisi, abbiamo parlato di analisi del target, abbiamo parlato di job2bd, abbiamo fatto tutto lunghissimo discorso su come comunicare a un target, oggi invece facciamo un ragionamento diverso e mettiamoci nei panni di un export manager, o in questo caso di un'azienda magari molto semplicemente che vuole esportare il proprio prodotto, e parte da zero e quindi vuole creare una strategia. Vedremo un po' di tool, un po' di strumenti diciamo nelle prossime settimane, però diciamo l'incipit è questo, vogliamo provare a analizzare tutto ciò che riguarda export, ok? Quindi, primo sito ovviamente di proprietà di Google, utilizzato secondo me ancora non tantissimo, o comunque non conosciutissimo, e fa parte ovviamente del brand, no? Think with Google, e ovviamente parliamo di Market Finder. Market Finder si presenta con un sito, quindi marketfinder.thinkwithgoogle.com, oppure semplicemente cercandolo dal browser, e la prima schermata è questa, per cui ovviamente il suo job to be done appunto è fai conoscere la tua attività in i nuovi mercati. È strumento totalmente gratuito, serve a identificare potenziali mercati, scoprire informazioni operative utili, e vendere prodotti e servizi ai clienti. Tutto questo è dentro la piattaforma, ok? Vediamo un pochino di cosa ancora nella prima pagina. Ovviamente qui permette di visualizzare consigli personalizzati, ok? Come si può lavorare su operazioni in mercati locali, sono tutti i consigli che sono dentro la piattaforma, e ovviamente raggiungere nuovi segmenti di pubblico con i giusti strumenti, e qui ovviamente Google vi proporrà i suoi prodotti. Allora, andiamo a prendere un sito, in questo caso prendiamo il mio sito di riferimento per questo tipo di operazioni, se non si fa altro che inserire qua dentro, ovviamente si dà continua e il sistema quindi parte, ok? A questo punto cosa succede? Succede che Market Finder comincia a esplorare il sito e esplorare delle categorie che secondo lui possono essere idealmente interessanti per questo tipo, per questa tipologia di cliente che sto analizzando. Ne avevo già parlato anche nella live di Sunrush, di Market Finder, secondo me per iniziare è uno strumento perfetto. Allora, facciamo finta, la produzione magari non è, in questo caso questo diciamo che non è, questo diciamo che non è, vogliamo aggiungere delle categorie, facciamo una prova, questo signore fa viti, vediamo se esiste micron, no direi che non è, vediamo qualcos'altro sui mobili, se c'è qualcosa che può magari interessarci, basta inserire ovviamente la categoria qua sopra, diciamo dai, teniamo solo questa per adesso e va bene. Quindi si clicca su conferma le categorie, ovviamente si può decidere se sono un retail o non sono un retailer, in questo caso facciamo sì, è dei primi, a chito, lui ci dice che i principali mercati per la parola chiave che avevo messo, quindi per la metrica salvata, sono sicuramente Stati Uniti, Germania e Francia, ok? Quindi qua mi dà già una prima panoramica, poi ovviamente andando su ogni paese ho la possibilità di capire magari un attimino la classifica, no? Quindi 123 è la classifica, in questo caso la federazione russa è il 35esimo posto. Scorrendo poi la mappa, cosa succede? Devo completare il mio profilo, quindi ovviamente non faccio altro che mettere il mio nome, dire ovviamente di che mercato interno, quindi da dove arriva il mio potenziale cliente, voglio rimanere aggiornato e si clicca su inizia. Così parto ovviamente, permetti, vai, adesso fa un redirect, ok, e a questo punto sono dentro, veramente dentro la piattaforma di Market Finder. Allora cosa succede? Vediamolo subito. Adesso è un po' lento a caricare, ok? Qui mi sta dicendo praticamente di scegliere quelli che sono potenzialmente, secondo me, i più interessanti mercati rispetto alla parola chiave. Abbiamo già visto che aveva stilato una classifica, come la stila sulle ricerche mensili da diverse categorie, ok? Poi ovviamente, se è uno strumento di Google, parla di Google Ads, e quindi ti dice subito se l'offerta consigliata è molto alta, bassa, 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 molto bassa, media, ok? Quindi fa anche un indice fondamentalmente di concorrenza. Poi ci parla di reddito netto disponibile per nucleo familiare, e indice della facilità di fare impresa, e di fare ovviamente il ranking. Cosa fa quest'ultima parte? Misura la facilità di fare impresa in un mercato, in base a una classificazione, da 1 a 190, e questi dati servono a comprendere il contesto normativo del paese più propizio alla via o alla gestione di un'attività locale. A questo punto vedete che ci sono tre spazi, quindi cosa devo fare? Devo andarmi a selezionare. Diciamo che il cliente ha un'idea di esportare, facciamo un esempio banale, in Germania, facciamo l'esempio in questo caso, facciamo il Regno Unito, vedete che qua sopra si compila, e poi facciamo un esempio in Spagna. Facciamo così, ok? Consiglio sempre, se dovete fare poi operazione su Google Ads, di dare comunque un'occhiata all'offerta, no? Perché potrebbe ovviamente avere un senso. Poi ovviamente qua posso filtrare i mercati, posso fare altre ricerche, se voglio andare un po' più preciso, ma in questo caso ovviamente mi basta quello che ho fatto, quindi faccio conferma, ok? E qui lui mi estrapola, mi strappolerà alcuni dati. Allora, quindi, il mio mercato è in Italia, quindi prendiamo la colonna di sinistra, i mercati potenziali, che ovviamente posso modificarli quando voglio. Nella mia attività ci sono i dati che ho messo prima, è tutto modificabile ovviamente. Mi rimetto qua sotto. E qui cosa mi dice? Mi fa una panoramica sul mercato, per cui mi dice ovviamente le ricerche mensili per le diverse categorie, che sono quelle appunto che avevamo scelte all'inizio. Poi mi fa l'offerta Google Ads, come dire, specifica, quindi in questo caso l'Unione Unita è molto alta, quindi sono benissimo che è un mercato molto competitivo, quindi se non ho grandi budget e vuole fare dei test, probabilmente com'era andare su Germania e soprattutto su Spagna, per capire anche un po' la potenzialità. Poi mi dice ovviamente nei paesi selezionati quali sono i ranking per fare imprese, questo vuol dire però aprire proprio una azienda, cioè una parte di azienda nel paese selezionato, e mi dà ovviamente anche il ritenetto delle famiglie che è molto interessante per capire un po' l'indice di spesa potenziale. Poi mi parla di comportamento d'acquisto, e questi sono dei atti siccome molto interessanti per fare anche dei ragionamenti, per esempio, ok, in questo caso nei paesi selezionati mi dicono che preferiscono comprare di più in un negozio fisico o in un negozio online. Poi parlano di tempo, come dire, che intercorre per rendere una decisione d'acquisto, questi sono ovviamente un tempo medio, ed è, può essere interessante, che per capire se è un paese più o meno reattivo, analisi dell'acquisto online in base ai dispositivi, quali sono i dispositivi, anche questo può essere utile per capire che tipo di campagna fare, e in che modo i consumatori fanno acquisti dalle smartphone, e in che modo i consumatori sono venuti a conoscenza dei prodotti che hanno acquistato, anche qui, ti danno una serie di risposte, quindi dei comportamenti, ovviamente, degli utenti online. Poi, andiamo a vedere ancora le ultime due cose, la prima è, parla di fattori che inducono l'acquisto, e quindi interessante, se è notato un annuncio, per esempio, possiamo immaginare che una campagna potrebbe essere sicuramente utile. Qua ci sono vari ed eventuali. Fattori emotivi, ok, quindi se fattori più funzionali o più emotivi, quindi cosa dice, è un'analisi tagliata l'importanza di fattori emotivi e funzionali che intervengono quando un consumatore prende una decisione di acquisto online, quindi se sono più razionali o meno razionali rispetto ai paesi che stiamo selezionando. Poi, fattori emotivi e funzionali di decisione di acquisto offline, ovviamente questo era online. Fattori determinanti per l'acquisto online, quindi, anche qui, ulteriori dati che posso andare tranquillamente, analizzare e capire se qualcuni o alcuni o tutti questi dati mi possono essere utili perché era una strategia. Di base però, ricordiamoci che Google Market Finder la tab più interessante è quella della panoramica dove mi dà un po' la potenzialità per esportare il mio prodotto. Poi, ricerche e pubblicità qui mi dà altre informazioni che possono essere utili, in questo caso fonte di informazioni per le ricerche online e si va a capire un attimino quali sono i più utilizzati. In questo caso, per esempio, cosa possiamo vedere? Che in Germania i video e le recensioni online non sono magari utilizzatissime, quindi in questo caso sono il 35%, mentre in Spagna piuttosto che in Italia, paesi magari dove c'è più magari la congestione social proof, qui magari c'è addirittura il 56,2. Fonte di informazione per le ricerche offline, qui ovviamente ci sono sempre una serie di cose, cosa potrebbe essere interessante in questo caso capire il tema delle fiere, dove magari le fiere ha un numero basso, non c'è un'incidenza bassa, probabilmente potrebbe avere senso invece fare delle operazioni più specifiche sul web, cioè dove ovviamente magari viene più utilizzato il sistema di ricerca online piuttosto che fiera. Poi, ultimi esempi, primo metterlo utilizzato per cercare un prodotto, anche qui, spiega un pochino e anche, fondamentalmente, è un po' una panoramica sul paese preso da vari punti di vista e soprattutto un'incidenza anche sul pubblico. Infine, sulla logistica, ok, spiega un pochino in che modo i consumatori ricevono gli acquisti online e quindi anche qua per capire, per esempio, su un e-commerce se la consiglia a domicilio è molto alta potrebbe essere sicuramente interessante, ritiro a negozio potrebbe essere quindi un click and collect, insomma, qua ci danno veramente tanti tanti dati, alcuni possono essere interessanti, alcuni vanno utilizzati, alcuni vanno razionalizzati, però, secondo me, è uno strumento che per chi vuole fare le prime operazioni di export è veramente, veramente interessante da utilizzare. Qua sopra ci sono ancora delle tab che sono pianifica le operazioni, quindi ci sono delle informazioni che Google fornisce, quindi la localizzazione, i pagamenti, l'assistenza ai clienti, la logistica, il cerchio personale, le clienti fiscali, clicca in unione di queste e si entra in degli approfondimenti e entra nel mercato del, in questo caso, della pubblicità, ci sono tutta una serie di strumenti che Google mette a disposizione, ovviamente in questo caso parliamo di Google Ads, per fare delle campagne per arrivare nei mercati che abbiamo selezionato. Quindi, recap, Google Market Finder, sicuramente strumento utile per iniziare a razionalizzare se un paese potrebbe essere utile all'export. Bene, diciamo che per oggi abbiamo fatto il nostro video e ci vediamo la prossima settimana. grazie a tutti, a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti